hai visto qualcuno no sei sicuro sì perché non ci sono pastori qui sono posti brutti l'inverno c'era neve d'estate manca l'acqua bisogna conoscerli bene a me mi piace però ma tu ci sei stato altre volte da queste parti con nostro padre e che guardavate le capri sì erano molto e tenevamo più di 400 ma tutte del padrone erano se tutto babbo è morto qui ma dove là sotto quella punta ma c'eri anche tu con lui ero lontano e com'è successo cercava delle capri che si erano perse faceva buio ed è caduto in un burrone e tu quando l'hai trovato il giorno dopo era quasi morto per il freddo e non ho potuto far niente com'era nostro padre era un uomo bravo si faceva rispettare ma un greggio suo non l'ha avuto mai era sfortunato tu invece sei riuscito per adesso almeno ma giù all'ovile non ci torniamo no per ora no che hai fatto? perché ti cercano? è successo un guaio concerti forestieri hai cominciato tu a sparare torna alle pecore vai vai cammina e cammina grazie a tutti